Buongiorno e bentrovati alla nostra rassegna stampa. A mattino 6 come sempre inizia dalla lettura delle prime pagine, in particolare da quelle della nostra regione. Il centro edizione di Pescara apre con il titolo che riguarda la bancarotta della OMA indagato Angelucci, l'ex presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara si autoaccusa. Poi andiamo nel taglio alto. Abruzzo scontro sul referendum, Regione, Movimento 5 Stelle e PD fanno intervenire anche i carabinieri. Poi ancora Abruzzo caccia verso la riapertura con i divieti. Verdetto oggi è ancora la classifica della CNA, ci sono Roseto e Sulmona, tre comuni super tassati. Andiamo a vedere poi a centro pagina, vicenda chiusa dopo otto anni, ora diventa patrimonio pubblico, la finanza confisca i colli, la villetta della famiglia Rom in via Monte Bertone. Vedete proprio l'irruzione delle forze dell'ordine nella villetta confiscata. Andiamo a vedere poi lo spazio delle cronache. A Pescara muore a 35 anni, c'è il via alla donazione. Marco Spallone, 35 anni, il dipendente dell'ASL, precipitato da un balcone. L'11 settembre via libera alla donazione degli organi dopo la sua morte. Andiamo a vedere poi a Montesilvano, nuovo ponte con le auto da dicembre, il nuovo ponte sul Saline e poi il processo, abusi al convitto, chiesti 5 anni per il Bidello. Andiamo a vedere anche quest'altra notizia di cronaca, stalking a Bella Chioma, divieto alla ex. Il giudice Barbara Stella Kiss non può avvicinarsi al leader abruzzese della Lega. Nel taglio basso troviamo il calcio, partendo dalla Serie B. Domani in campo contro il Crotone, Pescara ora la Tegola, Balsano, più grave del previsto. L'infortunio del Terzino, rischio di intervento dopo gli infortuni di Marco Tuminello e Luca Palmiero a Cosenza. La città dell'estrata alla volta dunque di Antonio Balsano, il Terzino, durante uno scontro di gioco al tombolato a pochi spiccioli. Dalla fine del primo tempo si è infortunato al ginocchio. Per quanto riguarda invece la Serie A, l'Inter resta sola in testa alla classifica Tonfo del Napoli. Andiamo a vedere poi ancora il centro, ma nell'edizione di Chieti Lanciano Vasto. Il titolo di apertura, assassino in fuga dalla casa lavoro. Vasto caccia un 55enne che uccise la sorella, non è rientrato dopo un permesso. Taglio alto che è lo stesso che abbiamo letto in precedenza, su cui non torniamo. Andiamo a vedere invece il centropagina. Tornano al comune gli impianti di Colle dell'Ara e Santa Filomena. Chieti di Primio riapre i palasport del CUS sequestrati. Qui vedete proprio il sindaco intento a rimuovere il lucchetto. Andiamo a vedere le altre notizie. Si è guidato la Camera di Commercio, questa notizia era l'apertura di Pescara. Banca rotta e falsi. Mauro Angelucci sotto inchiesta. Guai per l'ex presidente di Confindustria e della Camera di Commercio inchiesta sul crack della Oma. Poi a Chieti troppo rumore. Il ristorante paga i danni a Lanciano, l'ultimo dono di Toni, salvate quattro vite. E ritroviamo anche la notizia che riguarda lo stalking per il leader regionale della Lega Bellachioma. Poi ancora il calcio di eccellenza. Lanciano tris firmato Miciche, terzo successo di fila dei rossoneri secondi in classifica. La notizia del taglio basso della prima pagina del centro teatino. Andiamo poi sull'edizione terramana del quotidiano d'Abruzzo. Il titolo di apertura, donna trovata senza vita nell'auto al Badriatica a causare la morte della 41enne residente a Isola, forse è stata un'overdose. A centro pagina la commemorazione della battaglia scritta contro Marsilio nel giorno di Bosco Martese. Sono state subito cancellate nella cerimonia per la battaglia di Bosco Martese. Poi andiamo a vedere le altre notizie nel Crona che a Montorio molesta una bimba di 10 anni e viene condannato. Un uomo di 36 è condannato a 3 anni e 4 mesi perché è accusato di aver molestato una bimba di 10 anni a Montorio. L'addio di Salini, Ater recuperato mezzo milione di canoni e vasi, questo lascia in dote l'ormai ex presidente dell'Ater di Teramo. E poi Minosse lascia il PD e spara a zero sui vertici del partito, questo accade nel PD terramano. Andiamo a vedere poi il taglio basso con la Serie C, finisce 1-1 la gara del Bonolis, il Teramo si morde le mani, pareggio beffa con la Viterbese dominata per 90 minuti. Poi nella seconda parte andremo a vedere anche le immagini e gli highlights con il commento di Andrea Costantini proprio della partita che si è giocata ieri pomeriggio. Andiamo a vedere anche l'edizione aquilana del quotidiano Il Centro, in apertura la cronaca, rissa con coltellate grave un 17enne, notte di violenza all'Aquila, coinvolti una decina di giovani e si cerca l'arma utilizzata. Poi a centropagina nella fotografia o video e l'amore, il simbolo di Sulmona in una statua inaugurata, l'opera che vedete alle spalle proprio del sindaco Anna Maria Casini. Andiamo a vedere nelle cronache, casa del sesso, l'affittuario finisce nei guai, accese di preturo e accusato di favoreggiamento della prostituzione per aver affittato una casa a quattro sudamericane nei guai un 54enne marsicano. Oggi l'apertura, tornano le auto nel centro di Avezzano e poi l'ospedale di Sulmona, medici salvano due gemelline nate premature. Nel taglio basso, festa della montagna nel segno del gerarca, l'Aquila celebra il fascista Serena. D'Angelo puntare sul turismo storico come a predappio, questa è una notizia che sicuramente farà discutere. Andiamo avanti, sempre con i quotidiani regionali, andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. In apertura, Bella Chioma perseguitato dalla ex. La donna colpita da divieto di avvicinamento al parlamentare leghista, alle figlie e ai familiari. Dopo la fine della relazione con il post al veleno e le minacce, lei ha risposto con una bordata di accuse. Andiamo poi a vedere le altre notizie. L'Aquila a bagarre per il blitz antireferendum, carabinieri all'emiciclo, i lavori della commissione sono ripresi a tarda sera, dopo ore di tensione per l'iniziale rinvio disposto da Sala Marcozzi dei 5 Stelle, IRA della Lega, intervento dell'arma. Poi torniamo sull'incidente dell'autobus della tua, Rosanna, il sorriso e la forza, studio, voglio fare la hostess in ospedale con la ragazza ferita nell'incidente dell'autobus a Caprara. Noi pendolari a piedi per colpa della tua, lasciati a terra per la terza volta, protestano a Teramo gli studenti pendolari sulla linea Ornano-Colledara. Poi Acchieti, travolto e lasciato solo sull'asfalto e caccia al pirata, è stato soccorso da altri automobilisti, ma non da chi li è andato addosso ed è fuggito. Acchieti è caccia all'auto pirata, la vittima è un noto assicuratore, 59 anni, investito mentre percorreva in moto via Cola di Bucchiani con l'auto da cercare, una Fiat Panda Rosso Corallo. Andiamo a vedere la notizia di spalla, dal bisturi ai robot, i futuri oculisti a Chieti, allievi da tutta Italia per tre giorni alla scuola dell'Università d'Annunzio nel centro di eccellenza oftalmica. Andiamo nel taglio basso, l'Aquila, il flagello, rissa a coltellate tra giovanissimi nel centro storico, abbiamo già visto in precedenza anche sul centro. Poi nel taglio alto, sotto la testata le altre notizie, Generazione Greta, sciopero del clima, studenti mobilitati a Vasto e Lanciano per la giornata di domani per il cosiddetto Fridays for Future. Poi la Serie C, Teramo solo 1-1 contro la Viterbese, gol illusorio di Cianci. Per quanto riguarda invece la Serie B, il Pescara, il K.O.A. Cittadella, possesso ma poche occasioni. L'allenatore Zauri, dopo il grave infortunio di Tumminello e ancora alla ricerca del sostituto, resta inoltre l'interrogativo sugli esterni. Andiamo a vedere anche la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. L'apertura, scricchiola la maggioranza d'Alberto. Siamo al comune di Teramo, voci su dimissioni imminenti, mugugni, aspirazioni, allargamenti di giunta e verifiche mai chiuse. Nel taglio alto, forcing del capitano sul maggioritario Bagari Regione per il referendum di Salvini, per chiedere che venga abolita la quota proporzionale della legge elettorale nazionale. Poi Giulianova ha chiesto il forum per piazza Dalmazia al Badriatica, muore in auto per sospetta overdose. Andiamo a vedere poi gli articoli di spalla, la politica a Minosse, lascia il PD per Renzi e picchia duro gli ex compagni a Silvi, sospesa alla demolizione del Fortino. Poi Salini se ne va, lascia un ater migliore di quella che ho trovato e ancora Teramo e Gennarelli, la nuova capa di gabinetto. Nella fotografia, bus insufficienti, studenti lasciati nuovamente a piedi, tua non è più un caso. Le tasse locali, Roseto Maglianera, studio della CNA che mette in risalto le difficoltà delle imprese, uno studio sulla tassazione nei vari comuni abruzzesi. Nel taglio basso troviamo il calcio, la Serie C, Diavolo, rabbia per un altro pareggio, beffa contro la Viterbese nella partita giocata alle 18.30 di ieri pomeriggio al Bonolis. Andiamo a vedere i titoli nazionali aprendo la carrellata sui principali quotidiani italiani. Già vedete la prima pagina del Corriere della Sera, il titolo di apertura che ritroveremo poi in questa prima parte di carrellata su altri quotidiani e sulla vicenda DJ Fabbo. Fine vita, sentenza storica, lecito aiutare a morire in casi come quello di DJ Fabbo, ma no ad abusi. La consulta fissa le condizioni per il suicidio assistito. Esulta Marco Cappato, Monsignor Forte, l'arcivescovo di Chieti Lanciano Vasto, commenta. Siamo sconcertati. Poi andiamo a vedere le altre notizie partendo dalla fotografia con questa stretta di mano fra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky. Il titolo sotto accusa la telefonata con Zelensky e Trump disse devi farmi un favore. Scoppia negli Stati Uniti il caso Ucraina per il testo di una telefonata tra Trump e Zelensky. Fammi questo favore, vai a fondo su Biden e figlio nel colloquio telefonico. Dunque il presidente degli Stati Uniti chiede ripetutamente al presidente ucraino di collaborare con Rudy Giuliani e il procuratore generale William Barr su questa inchiesta, su uno dei principali candidati democratici. Poi andiamo a vedere le altre notizie. I 5 Stelle, Di Maio avvise i ribelli, con me l'80% del movimento. La Lega dice in 10 sono pronti a passare dalla nostra parte questi movimenti nel Parlamento e in particolare nel gruppo dei 5 Stelle della Lega. L'allarme di Greta, siamo al clima, che errore dimenticare i benefici del progresso. Questo è l'articolo di Pierluigi Battista, di spalle invece la riflessione di Antonio Polito, leader parlamenti, un braccio di ferro globale. Andiamo adesso su Repubblica. Più liberi di morire con dignità la sentenza su DJ Fabbo, decisione storica della Corte Costituzionale. Il suicidio assistito non sempre punibile, indicati i limiti in cui può essere agevolato i giudici. Ma adesso il Parlamento deve fare una legge, i vescovi sconcertati ai medici va garantita l'obiezione di coscienza. Poi la manovra, scontro PD 5 Stelle, il tesoro stoppa l'aumento del deficit. L'analisi sulla notizia di apertura, il diritto e la misericordia, la riflessione appunto sul caso DJ Fabbo e sul suicidio assistito. Il governo firmi la pace con le ONG, invece l'articolo di Gad Lerner. E a proposito invece di clima, il clima impazzito, la foto è quella del Monte Bianco, il ghiacciaio di Plansipieu, sul versante italiano del Monte Bianco. Stiamo perdendo il Monte Bianco, il titolo. Courmayer, il cardo consuma il ghiacciaio, allarme crollo, scatta uno scudo per le case, anche se il sindaco ha rassicurato che non ci sarebbero problemi per quanto riguarda il paese di Courmayer, il ghiacciaio che viene monitorato con un radar. Andiamo adesso sulla stampa. Il titolo di apertura, la scelta dei giudici sia al suicidio assistito ma attenti agli abusi. Il radicale cappato non punibile si apre la strada per il fine vita in Italia. La consulta dice legittimo in casi come quelli di DJ Fabbo. Ora serve una legge. Dietro alla sentenza, se lo Stato sfugge i suoi doveri e ancora invece cambiando argomento, il piano di Di Maio, l'ONU in Libia contro le violenze sui migranti. Anche qui di spalla troviamo l'emergenza clima a Monte Bianco, un radar, come vi ho detto, veglia sul ghiacciaio in movimento. E poi ancora le voci dalla valle, sentiamo i boati della montagna. Questo è il reportage da Courmayer. Andiamo adesso avanti con avvenire. E chiaramente in apertura torniamo sui temi etici e sulla sentenza della consulta. Condizioni di morte, il titolo del quotidiano cattolico che fa una precisa scelta di campo. Chiaramente sul suicidio assistito la consulta prevede in quali casi e con quali procedure c'è la non punibilità, volontà cosciente, patologie irreversibili, sostegni vitali, sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili. La Corte Costituzionale apre e pone i paletti, tocca al Parlamento legiferare e ai giudici decidere sul caso Cappato-Fabo. L'editoriale di Marco Tarquinio, confusioni da evitare, lavoro da fare, chiamati all'umanità. Questo è il titolo. E chiaramente viene riportata anche il commento della CEI, la presidenza della CEI, sconcerto e distanza, spinta culturale negativa. Questa è la posizione dei Vescovi. Poi andiamo a vedere gli Stati Uniti, un favore in guai a Trump, i democratici chiedono l'impeachment per il Presidente degli Stati Uniti. Andiamo sul messaggero, torniamo sulla vicenda del suicidio assistito. Svolta sul suicidio assistito, il titolo, con insomma anche i commenti che abbiamo già visto, rivolta dei medici, solo un pubblico ufficiale può staccare la spina. Questa sentenza chiaramente farà discutere ancora per molto. Poi divulgata la telefonata con Zelensky, la Clinton chiede l'impeachment, indaga su Biden, Trump sotto accusa queste le nubi sulla Casa Bianca. Poi manovra rispunta alla rottamazione, tasse su fumo e giochi. Vertice a Palazzo Chigi, deficit poco sopra il 2%, slitta lunedì il Consiglio dei Ministri sulle via libera ai Conti. Proseguiamo con il mattino. Suicidio assistito, la svolta, il titolo sulla vicenda di J. Fabbo. Poi Veneto, altro che autonomia, numero chiuso sui migranti, le richieste di Zaia a boccia dalla scuola alle quote di ingresso. Rivelato l'audio, indaga su Biden, Trump nei guai, Hillary Clinton sì all'impeachment. Poi andiamo a vedere il calcio. Napoli, la grande beffa, il Cagliari passa al San Paolo. Un Napoli da non credere, va a K.O. Trappali e gol divorati. Sul secolo XIX, concludiamo questa carrellata sui titoli di apertura che riguardano la vicenda di J. Fabbo. La svolta della consulta sia al suicidio assistito. Adesso serve una legge, i vescovi e sconcertante ci rinascita storica la decisione dei giudici sul caso cappato di J. Fabbo. Il commento di Luigi Laspina, ma lo Stato non può fare il supplente. Poi andiamo a vedere le altre notizie. Termina il crociere a Genova, Costa chiama Renzo Piano, intervista alla DITAM. Voglio crescere con la città, questo per quanto riguarda la città di Genova, il secolo XIX, quotidiano genovese. Infatti in primo piano c'è la Serie A con il Genova che pareggia col Bologna 0-0 e la Samp che non è guarita. 2-1 la sconfitta contro la Fiorentina. Adesso andiamo a vedere il sole 24 ore, il titolo di apertura del quotidiano economico finanziario. Torna il bonus per chi punta a rafforzare l'impresa. Questi i rumors sulla manovra. Adesso allo studio del governo la reintroduzione dell'ACE, forse già a partire dal 2019. Torna l'ipotesi di aumenti mirati per la licuola IVA Naltolà di Palazzo Chigi. Lungo vertice da Conte, la Nadef rinviata lunedì 30, mancano ancora 5-7 miliardi. Poi a centropagine il confronto Francia-Germania con questa foto di Macron e Merkel. Crisi, Parigi reagisce e Berlino declina. Andiamo a vedere le altre notizie. E-commerce controlli sulle piattaforme per la lotta all'evazione. Nella moda 50 mila posti di lavoro. Questa è la notizia sull'occupazione. Poi IMS su quota 100 e risparmi 2019 salgono a 1,7 miliardi di euro. Sul Fatto Quotidiano adesso, no a Conte anche dai Renziani. Il PD resiste sul carcere agli evasori. Premier e Bonafede vogliono alzare le pene e abbassare le soglie di impunità. Bazzoli, Deidem, Marattin, Renziano, inutile punire chi evade del Rio e nel programma Orlando. Dice, vedremo dunque queste un po' le voci dal centro-sinistra per quanto riguarda la vicenda. Nel taglio alto aiuti al suicidio non punibili in casi estremi come quelli di J-Fabbo. La notizia che riguarda la sentenza della consulta. Andiamo a vedere poi le altre notizie. In particolare la deposizione sulla trattativa dell'Utri. La moglie ha Berlusconi in gioco la sua vita con Berlusconi. Indagato a Firenze per un processo correlato sulle stragi del 1993. Che per questo motivo si avvarrà della facoltà di non rispondere. Dunque non deporrà sul processo invece che riguarda Dell'Utri. Così come invece avevano chiesto gli avvocati della famiglia Dell'Utri. Andiamo adesso sul manifesto. Il titolo di apertura con la foto di Trump. L'impiccione. Trump diffonde il testo della sua telefonata al presidente ucranio Zelensky. In favore vai a fondo sull'indagine bloccata su Biden e figlio. E collabora con Giuliani e il procuratore generale Barr. L'impeachment unisce i democratici. Donald assediato. Ma il caso Biden è destinato a crescere anche a Kiev. pregiudicando la sorte dello sfidante democratico prima ancora di quella del tycoon. Nel taglio alto le condizioni per il suicidio assistito con la sentenza. Il rischio di un eccesso di vincoli. E l'articolo di Massimo Villone a commento della notizia. Andiamo avanti su Libero. Conte se la prende coi vecchi. I divieti sui contanti penalizzano gli anziani. Il governo pensa di concedere sgravi fiscali soltanto a chi salda col Bancomat. Di svantaggiare la gente che utilizza banconote. Soprattutto pensionati. L'85% dei quali non usa le carte di credito. Andiamo avanti. Lasciamo Libero. Andiamo sul tempo. Inizia la guerra della mala capitale. Parla il PG Lupacchini. Dopo gli arresti dei capi si è creato il vuoto di potere. Sono saltati gli equilibri. E ora rischiamo di vedere ancora morti e ammazzati. Le seconde e terze linee senza scrupoli e controlli vogliono imporsi e sparano. Per quanto riguarda il calcio. La Serie A stecca la Roma e l'Atalanta fa il colpaccio. Finisce 0-2 all'Olimpico. La Lazio bella ma l'Inter brava. Vince Conte. Bianco Celesti spreconi. 1-0 la partita fra Inter e Lazio. Andiamo sulla verità. Altro che solidarietà dell'Unione. Se l'accordo europeo funzionerà ci prenderemo i migranti altrui. Incredibile tranello dietro il fumoso, tra parentesi, accordo di Malta. La ridistribuzione toccherà a tutti. Con Grecia e Spagna nel patto bisognerà spartirsi i loro arrivi che sono molti di più di quelli italiani. Di Maio nei guai, 70 deputati verso lo strappo. Salvini, molti li aspetto nella Lega. Questa invece è la notizia di politica. Andiamo sul secolo.it. Colle delegittimato. Giusto tagliare i parlamentari. Ma quei 345 leggeranno il nuovo capo dello Stato. Nel primo piano referendum maggioritario. Fratelli d'Italia, noi ci siamo. Ma forse Italia sembra defilarsi. PD cede subito il 5 Stelle. Sia il taglio dei parlamentari. Salvini aprà sorpresa. In tanti dalle 5 Stelle prossime ad entrare nella Lega. Andiamo a vedere adesso i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. 5 su 5, sempre in testa. Lazio battuto 1 a 0, decide D'Ambrosio. Inter di ferro. Andanovic para tutto, difesa top in Europa. È un gioco alla Conte. Duello con la Juve per lo scuretto. Dietro c'è già il vuoto. Poi Torino e Milan. Punti per il rilancio tra Sirigo e Gigio. È duello nazionale. Chi vince aggancia il quarto posto. Mazzarri attacca. Quando sali, cominci a dare fastidio. Di spalla è Atalantissima. Sbanca Roma e vola al terzo porso con un super zapata. I bergamaschi si impongono 2 a 0. Scivolone Napoli a meno 6 dalla vetta. Il Cagliari lo beffa con Castro. All'87esimo, rosso per Coulibaly. Due pali di mette in Sancelotti. La classifica piange, ma non sono preoccupato. Questo è il commento dell'allenatore. Andiamo sul Corriere dello Sport. San D'Ambrosio è il titolo con questo gioco di parole. L'Inter batte 1 a 0 la Lazio e Conte fa il record. Il terzino firma la quinta vittoria consecutiva. Un Andanovic da urlo salva il risultato. Antonio non era mai partito così forte. Taglio alto. Napoli la notte nera. Bruttissimo scivolone contro il Cagliari che vince il San Paolo con un gol di Castro. Espulso Coulibaly. Ancelotti già a 6 punti dalla vetta. Ma dice non sono preoccupato. Poi ancora Milan. Voglio una reazione. Scossa Gianpaolo. Stasera la partita a Torino dopo la sconfitta nel derby. Su Tutto Sport ci vediamo il 6 ottobre con le foto di Ronaldo e Lukaku. L'Inter saccagna la Lazio con D'Ambrosio e torna in testa a punteggio pieno. Sarri pensa già alla super sfida con Conte. Fa la rivoluzione e passa al 4-3-1-2 con Ramsey dietro Ronaldo e Higuain. Cade la Samp. Prima vittoria viola dopo sette mesi. Nel taglio alto FIFA che scandalo. CR7 scippato. Il capitano del Niguo Aragua rivela mai votato per Messi eppure risulta così. Il CT del Sudan per The Best ho votato Salah ma mi hanno appioppato Messi. Dunque queste le rivelazioni. Poi Chiatalanta, Zapata e Deron sbancano la Roma. Torino-Milan Granata di rabbia con Verdi e Laxalt. Questo per quanto riguarda la partita di questa sera che chiude il turno infrasettimanale. Noi adesso ci fermiamo per quanto riguarda questa prima parte di Rassegna Stampa. Andiamo a vedere insieme le previsioni meteo per le prossime ore. Dopo il break pubblicitario torniamo con la seconda parte della nostra Rassegna Stampa. Di nuovo insieme per la seconda parte della nostra Rassegna Stampa. Torniamo ai quotidiani regionali. Andiamo nelle pagine interne. In primo piano sul centro il verdetto atteso per oggi sulla caccia verso la riapertura con una serie di divieti. Il Tar L'Aquila pronto a dare ragione a entrambi gli sfidanti, imprudente e gli ambientalisti. L'ordinanza possibile sia al nuovo calendario con il divieto di sparare agli uccelli migratori. Poi l'assessorato alla sanità autismo ha presentato il progetto che migliora la qualità della vita. Obiettivo del protocollo garantire l'inserimento sociale e le pare opportunità. Il programma dell'ANXA prevede una rete pubblico privato dell'accoglienza e noi possiamo andare a vedere proprio il servizio sulla presentazione di questo progetto. L'autismo è un disturbo di cui si sa poco ma in Abruzzo ci sono circa 800 casi diagnosticati. Chi non ha mai vissuto da vicino questa condizione spesso non sa come doversi relazionare con persone autistiche. E' importante formare le persone affinché loro possano comunicare con questi bambini che hanno proprio problemi di comunicazione. Quindi questo è il primo step che viene affrontato da questo progetto. E nemmeno nei presidi sanitari il personale è formato per fronteggiare situazioni che a volte si rivelano difficili. Porteremo avanti un obiettivo molto importante che è quello di creare una rete di sensibilizzazione, definiamola così, per tutte le realtà che ci sono nella nostra regione e dare degli indirizzi ben precisi. Ossia creeremo quelli che sono le buone prassi, un'attenzione verso il ragazzo autistico affinché possa esserci sempre maggiormente un inserimento, un'inclusione e soprattutto una capacità di poter vivere la propria vita in maniera il più possibile indipendente. Con Autism Friendly, però progetto promosso dall'Associazione Nazionale Genitori e Soggetti Autistici, le cose in Abruzzo potrebbero cambiare. Lo scopo infatti è quello di creare una rete solidale e di preparare il personale di scuole, ambulatori e altre attività a relazionarsi con persone autistiche. L'obiettivo è l'inclusione. Le famiglie conducono una lotta veramente quotidiana, importante. Quello che finora è stato sempre una questione legata alla famiglia, bisogna che ci si renda conto che ormai è divenuta una questione della società, dove ognuno se ne deve fare proprio carico, dove le istituzioni, così anche il mondo scolastico, devono comunicare tra di loro per creare reti, sinergie, per superare quelli che sono oggi gli ostacoli verso l'autismo. Passiamo alla pagina Abruzzo del messaggero. C'eravamo tanto amati, Bella Chioma e la ex per lei scatta l'accusa di stalking. Barbara D'Antonio raggiunta dal divieto di avvicinamento al deputato della Lega, la quarantena di Giulia Nova risponde davanti al GIP con una bordata di accuse. Poi ancora Sanità aggiorni la sentenza sul ricorso di Mascitelli, il manager licenziato. Poi nel taglio basso scoppia la rissa sul referendum, anche i carabinieri all'emiciclo. Sara Marcozzi dei Cinque Stelle apre e rinvia la seduta in assenza del presidente Bagarre fino a sera. Questa notizia la andiamo a pescare anche sul centro. Lo scontro politico, referendum, i carabinieri in regione chiamati dall'opposizione PD Cinque Stelle per bloccare la legge della Lega spunto a un filmato, ma la maggioranza va avanti. Poi l'elezione in Slovenia. L'assessore Campitelli, nominato al vertice delle regioni ed Europa, stop allo Spol System per Mascitelli, udienza l'8 di gennaio, il caso agenzia sanitaria. Questa data spinge la regione a frenare. Poi andiamo a vedere ancora la notizia della Bagarre in commissione sul referendum leghista che andiamo a vedere sulla città. Il centrodestra arriva in ritardo. La vicepresidente Marcozzi rinvia tutto al primo di ottobre e la maggioranza riprende i lavori. Il blitz, i lavori sono stati rinviati fuori tempo utile per l'approvazione della proposta di referendum abrogativo per modificare la legge elettorale nazionale scompaginando i piani della Lega abruzzese. E poi nel taglio basso Campitelli, vicepresidente dell'Assemblea delle Regioni con delega all'Energia. Andiamo avanti, torniamo sul centro. Andiamo a vedere la pagina Abruzzo che invece si occupa delle tasse sulle imprese in regione. Sul Mone e Roseto, le città più tassate d'Abruzzo. Dato shock della CNA, sette mesi di guadagni solo per pagare tasse e balselli. Spoltore e Lanciano, i comuni virtuosi dove la pressione fiscale pesa di meno. Andiamo avanti e siamo invece adesso alle pagine di Pescara, sempre sul centro. Apriamo con la cronaca giudiziare. Il clac della OMA di Torre dei Passeri, bancarotte e falsi in bilancio, indagato Mauro Angelucci. L'ex presidente di Confindustria Abruzzo e della Camera di Commercio di Chieti e Pescara si autoaccuse. La Procura apre un fascicolo sull'imprenditore. Tra ottobre e novembre le udienze sulle sue società. A proposito del Tribunale di Pescara, morti di Rigopiano al via le nuove udienze. Questa mattina in aula papà Feniello, domani il secondo round del processo principale con 24 imputati. Restiamo sulle pagine di Pescara del centro. Maxi Operazione in via Montebertone, blitz nella villa confiscata, sgomberato una famiglia rome. Il nucleo di sei persone aveva continuato a occupare abusivamente l'abitazione. Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale, dice ora avanti con le altre confische. Via di sotto, la piazza promessa è mai realizzata, lavori bloccati, lira dei residenti. Poi Marco non ce l'ha fatta via libera alla donazione degli organi. Spallone, 35 anni, è morto ieri due settimane dopo essere precipitato dal quarto piano della sua casa. Appassionato di sport, lavorava al CUP della ASL. Da ieri è iniziato l'iter per l'eventuale espianto. L'incontro con i commercianti. Comune senza soldi per il Natale, ma le luci d'artista torneranno. Cremonese in commissione svela alle associazioni di categoria la situazione finanziaria dell'ente. Per i grandi eventi sono rimasti 65 mila euro, scusate, 65 euro, pardon. Organizzeremo lo stesso, alcune iniziative per le feste. Poi in città un turismo mordi e fuggi. L'assessore analizza i dati della sosta in estate. Mascia ad agosto, parcheggi pieni sulla strada Parco a luglio, meno. Via Gioberti a senso unico, PD critico. Serve uno studio. Il progetto è stato approvato in giunta. L'appuntamento di sabato, tornei sportivi, musica e laboratori. La festa dei parchi. Poi l'open day da oggi a Lenaia di quattro giorni per ripartire. Domenica l'Academy, borse di merito sportivo ai giovani talenti. La pagina di Montesilvano. La nuova città, il dibattito. Sia la riviera bellissima, ma attenti ai parcheggi. Dai balneatori via libera al progetto della giunta comunale su senso unico e valorizzazione della pineta. Padovano bisogna intubare Fosso Mazzocco. In via Oder muore in casa, 58 anni trovato dopo giorni. Poi ancora ponte dell'Adriatico. A dicembre l'apertura ad autobici e pedoni. Sopralluogo del presidente Zaffiri e dei sindaci De Martinis e Perazzetti. Decongestionerà il traffico della nazionale. Questo nuovo ponte sul Saline. Dramma Francavilla muore in casa scoperto dopo sette giorni. L'uomo aveva 76 anni. L'allarme è stato dato perché la sua auto era in divieto di sosta e intralciava il mercato settimanale. Nella pagina successiva, abusi nel convitto. Il PM chiede 5 anni di reclusione per il bidello. Al hanno accusato di violenza sessuale su 4 studenti. Ieri è stato ammesso al rito abbreviato. Il 2 ottobre prossimo la sentenza dopo le repliche di accuse difesa. Due le parti civili costituite. Siamo bravi genitori, ridateci nostro figlio. Penne lo sfogo di un padre. Il bimbo era accudito e pulito. L'assessore dice non possiamo intervenire. Nel taglio basso a Scaffa incontro con l'Averì sul distretto sanitario. Andiamo nelle pagine di Pescara del messaggero. Strada Parco, flop della sosta estiva. Ora i bus elettrici. Agosto riscatta solo in parte i dati dell'udenti di luglio. Richiesta di variante per la filovia. Programmati i lavori. Operazione Natale. I negozianti chiedono luci d'artiste ed eventi. Faccia a faccia dei comitati con Cremonese, Rapposeglie e Peschi. Black Friday a fine novembre. Pescara nei parchi. Una festa nel verde. Sabato l'iniziativa. Poi imparerò le lingue e farò la hostess. Parla Rosanna, vittima dell'incidente della tua Caprara. Parla dal letto dell'ospedale assistita dal papà e da un'amica. Le idee chiare sul futuro. I capelli raccolti ne incorniciano il bel viso di ragazzina. Ce la metterò tutta il mio sogno. E lavorare a Dubai. Poi ancora i furbetti del cartellino dovranno risarcire la ASL. Quattro impiegati condannati dalla Corte dei Conti a pagare 10 mila euro. all'azienda per danno all'immagine. Nella pagina successiva, studenti molestati. L'accusa chiede, scusate, 5 anni. Verso la conclusione del processo al custode del convitto agrario di Alanno. Ieri la requisitoria e il 2 di ottobre la sentenza. Credibili, secondo il PM Paolo Pompa, le accuse degli studenti contro l'uomo, incastrato anche dalle telecamere dei carabinieri. Le bombe ecologiche, i veleni della ex Montecatini interrati, fino alle sponde dell'Orta, questi rifiuti pericolosi a Bolognano. E poi ancora, e più vicina alla sponda angolana, aprirà entro l'anno il Ponte Nuovo. I sindaci di Città Sant'Angelo e Montesilvano fanno il punto con il presidente della provincia. Passiamo alle pagine di Chieti, restiamo sul messaggero. Assicuratore travolto in moto, adesso è caccia all'autopirata. Partita la denuncia, si cerca una panda, ha provocato l'incidente e non si è fermata. Il Centauro, aiutato da altri automobilisti di passaggio, evitate conseguenze più gravi. I reati ipotizzati sono lesioni personali e omissione di soccorso. Poi, del vecchio va a giudizio assolto in pieno D'Antonio, così è caduta l'accusa di abuso. Ora la vicenda si chiude a metà per quanto riguarda l'università. Poi, nel taglio basso, Palazzetti dello Sport, via i Lucchetti, rimossi dal sindaco di Primio, la buca in via dei Turri, diventa cratere, questo per quanto riguarda la città di Chieti. Nella pagina della provincia studentesse fanno lo sciopero del clima. Protagoniste cinque alune del liceo scientifico Mattioli, domani terranno un sittine davanti la piazza Barbacani. A vasto, lotta all'uso della plastica ma anche allo spreco di energia. Nelle scuole termosifoni accesi male e le finestre sono aperte. Corteo anche a Lanciano, supportato dal sindaco. Questa è l'iniziativa, diciamo, nel solco di quello che sta portando avanti Greta Thunberg. Poi, Palazzina Cloaca interviene Pupillo a Lanciano, donna sommersa dai licuani al padrone di casa, all'ordine di bonificare presentata la stagione del Fenaroli. 32 gli spettacoli, sempre a Lanciano, scontro con lo scooter, 15 anni in ospedale a Tessa. 300 famiglie campione per l'Istat, notizia da Ortona. Nelle pagine di Chieti del centro, caccia all'uomo, uccise la sorella, fugge dalla casa lavoro. Alfonso da Ponte non è rientrato a Torresinello dopo un permesso di tre giorni. Nel 97 soffocò la ragazza durante una lite. E poi a Lanciano, il ragazzo precipitato, Toni salva quattro vite, il suo ultimo gesto d'amore, l'espianto degli organi. Possiamo andare a vedere anche questo servizio. A donato cuore, fegato, reni e corne, Antonino Baldassarre Camarda, noto come Toni, il 26enne originario di Palermo, morto all'ospedale di Pescara dopo dieci giorni di coma. Il giovane cameriere che lavorava in un ristorante di Fossacesia Marina, cadde rovinosamente a Lanciano da una terrazza di viale rimembranze lo scorso 14 settembre. Diagnosticata la presunta morte encefalica alle 8 del mattino, dopo alcune ore di osservazione, i medici hanno certificato il decesso alle 14.10. I familiari hanno dato l'assenso alla donazione degli organi ed è quindi iniziato l'iter che ha portato al prelievo avvenuto nelle ore successive. Il cuore è stato prelevato da un'equip proveniente da Torino, il fegato da quella arrivata da Roma, infine le corne e i reni sono andati all'Aquila. Il tragico episodio segnò la notte dell'apertura delle feste patronali a Lanciano. Erano le 4.30 quando, dopo lo spettacolo pirotecnico, Toni si avviava a riprendere l'auto parcheggiata in via per Fossacesia, ma per evitare un tragitto più lungo a piedi, verosimilmente, decise di scavalcare il parapetto della terrazza di viale rimembranze. Aveva immaginato di dover fare solo un piccolo salto, in realtà il cameriere che lavorava in un ristorante di Fossacesia Marina è precipitato da un'altezza di circa 5 metri, cadendo rovinosamente nel piazzale dell'autolavaggio GM. Dopo i primi soccorsi sul posto e poi al vicino ospedale Renzetti, il giovane venne trasferito in quello di Pescara per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. In questi giorni era stato ricoverato nel reparto di rianimazione di Pescara, ma non si era mai ripreso dal coma. Delle indagini si sono occupati i carabinieri della compagnia di Lanciano, coordinati dal comandante Vincenzo Orlando. La Procura, dopo il decesso, ha dato il nulla osta per la sepoltura. Alcuni giorni prima i genitori si erano recati sul luogo dell'incidente, increduli per l'accaduto e segnati dallo sconforto. Le pagine di Teramo adesso sul centro. La tragedia indagano i carabinieri. Alba, 41enne trovata senza vita in auto, a causare la morte della donna residente a isola. Potrebbe essere stato un'overdose di eroina disposta all'autopsia. Poi ancora la cronaca. Molesta, bimba di 10 anni condannato, Montorio, 3 anni e 4 mesi, al pakistano, che avvicinò la piccola mentre portava a spasso il cane. Il caso a Roseto, scambio di denunce. Abbiamo già visto stalking a Bellachioma, divieto alla ex Barbara Stella Kiss, ha il divieto di avvicinarsi al leader abruzzese della Lega e ai suoi familiari. Andiamo avanti e andiamo nelle pagine di Teramo sul messaggero. Salini, addio tra le polemiche, ma lascio l'hater in attivo. Il commissario uscente parla anche di ricostruzione. Troppa burocrazia sulla progettualità. Abbiamo fatto tanto. Il primo successore sarà molto agevolato. La questione del complesso di collaterrato ha provocato molte proteste degli inquilini e noi possiamo andare a vedere la conferenza stampa di ieri. Spoil system al vertice dell'ater di Teramo. Dopo 17 mesi lascia il commissario Nicola Salini, che sarà sostituito da Maria Ceci, direttore vicario dell'INA il Teramano, nominata recentemente dalla Regione Abruzzo. Salini traccia un bilancio del suo mandato durante il quale ha dovuto gestire 2.753 alloggi ater distribuiti su 45 comuni e molti dei quali danneggiati dal terremoto. Solo nel capoluogo a Prutino sono 1.073 gli sfollati delle case popolari e nonostante i mancati introiti per 35.000 euro l'anno e l'apertura di due nuovi cantieri a Castelli in via Damoli a Teramo, il bilancio del 2018 dell'azienda chiude in positivo. 17 mesi all'ater, qual è il suo bilancio? Naturalmente è importante sottolineare che al momento in cui mi sono insediato, per quanto riguarda il percorso della ricostruzione, per varie ragioni, vuoi per circolari che in qualche modo si contrapponevano tra loro, vuoi per decreti che non trovavano attuazione, non c'era una vera e propria linea guida che consentisse la partenza di questa ricostruzione. Posso senz'altro affermare che è stato fatto tanto, sono stati lavorati circa 60 progettazioni, studi di fattibilità tecnica ed economica, per i quali abbiamo ottenuto anche i relativi nulla osta e siamo partiti con tutto il processo di affidamento di 23 progettazioni, quindi facciamo riferimento alla fase antecedente come preludio per la ricostruzione in senso stretto e per sé dei quali abbiamo affidato i progetti. Per quanto riguarda invece la ricostruzione in senso stretto, possiamo dire che abbiamo provveduto al vaglio dei progetti di due importanti cantieri, vale a dire Viaggio della Sadamoli 48 e Castelli, che sicuramente non appena provvederemo alla stipula di tutti gli atti propedeutici all'affidamento dei lavori, consentiranno il rientro di circa 200 persone. Rientro che sarà consentito anche a tutti coloro che avendo una inagibilità in classe E hanno fatto domanda presso i vari comuni della provincia di Termo e potranno beneficiare degli alloggi che l'Ader si apprezzerà ad acquistare nei prossimi giorni. Tagli alloggi, naturalmente facciamo riferimento a 92 alloggi per un importo di 13 milioni di Euro. Andiamo avanti ancora nelle pagine di Teramo del messaggero, la politica, Minosse e Commissariato lascia il PD, non mi rappresenta più, l'ex segretario provinciale va con Renzi di Marco, siamo stati messi alla porta. Nella pagina successiva, strutture abusive, partono le demolizioni a Giulianova, firmati dal dirigente, quattro ordini di abbattimento per due gastronomie, un edicole e un negozio di giocattoli, contestati ampliamente i chioschi e opere in muratura non previsti dal progetto o mai autorizzati dal comune. Sempre a Giulianova la non piace, la nuova piazza Dalmazia, le opposizioni vogliamo un forum. Nel taglio basso, di sea sull'autobus degli studenti, lasciati a piedi per la terza volta da Ornano a Colledara e poi aggredisce la moglie dopo una lita e viene arrestato a Basciano. Andiamo a vedere anche la città, completiamo le notizie dal Terramano. Scricchiola, la maggioranza d'Alberto, tra voci di dimissioni imminenti, mugugne e verifiche mai chiuse, sarà un autunno caldo per il sindaco. Tensioni e tranquillanti, in un anno di governo il sindaco è intervenuto più volte per sedare i malumori, ma quanto potrà resistere prima di cedere? La verifica, che fine hanno fatto le relazioni chieste dal sindaco e agli assessori sul primo anno di governo. Poi sfollati, irritati dalla capatina di Farabollini a Colle Atterrato, informati solo all'ultimo momento, speriamo che la sua non sia la solita passerella, questo per quanto riguarda la ricostruzione. Torniamo alla politica, torniamo al PD, Minosse lascia i dem e passa con Renzi dopo il commissariamento via Facebook da parte di Fina, l'ex segretario Picchiaduro sugli ex compagni. Il caso, Ginobble durissimo sul ruolo di Fina, ha commissariato l'unico segretario democraticamente eletto. Poi Salini lascia un atter migliore di quella trovata, lo abbiamo ascoltato in precedenza, e poi chiesto un atto pubblico, non il project, il coordinamento dei quartieri insiste sulla richiesta documentale per l'ospedale nuovo di Piano Daccio. Accordo per gli aspiranti contabili all'Università di Teramo, accordo con l'Ordine dei commercialisti per velocizzare i tirocini. Il primo di ottobre Malagò in città per inaugurare la palestra San Gabriele. Poi ancora, fine settimana col cibo di strada in Piazza Martiri, la terza edizione dell'Autumn Fest itinerante. Poi l'IZS Caporale è in prima linea in Africa, delegazione guidata dal direttore d'alterio in Namibia per rafforzare ricerca e formazione al SADC. Poi la commemorazione della battaglia di Bosco Martese, vedete la doppia pagina, celebrati gli eroi della battaglia del Ceppo, migliaia tra i boschi per ricordare uno degli episodi chiave della guerra di liberazione nazionale. Andiamo avanti, ancora sulla città, completiamone le pagine. Caos trasporti, studenti lasciati a piedi in Piazza San Francesco, gli autobus tua per l'entroterra restano pochi, ragazzi di Colledara costretti ad attendere il bus successivo. Trovata senza vita nella macchina ad Alba Adriatica, una quarantonenne si sospetta l'overdose, abbiamo visto, saranno gli esami della Procura a stabilire le cause del decesso. Poi ancora ATR, raggiunto l'accordo sugli stipendi arretrati, pace fatta tra lavoratori ed azienda, ma i sindacati ora invitano la proprietà a mantenere le promesse fatte. Andiamo adesso nelle pagine dell'Aquila, torniamo sul centro, San Bernardino e Collemaggio, notte violenta, Risse in centro ha coltellato un ragazzo, il 17enne albanese ricoverato in prognosi riservata per un polmone perforato, coinvolta una decina di giovani. Un'escalation di violenza inarrestabile, l'ultima aggressione pochi giorni fa alla fermata del megaparcheggio, ci sono due sospettati. Nella pagina successiva, chiesto il rito abbreviato, casa del sesso nei guai, 54enne marsicano affittava un alloggio di Cese di Preturo a quattro sudamericane, i clienti rispondevano ad annunci su baccheche specializzate a Celano, minacce di morte, finisce in carcere in preda ad un raptus, scende in strada e inveisce contro un vicino. Evento nel segno del fascista serena, l'Aquila presentata alla Festa della Montagna, d'Angelo Turismo come predappio. Andiamo a vedere adesso le pagine dell'Aquila sul messaggero, eccole qui, Infopoint, restyling completo, sarà il biglietto da visita, nuova illuminazione a redi più moderni, anche la connessione gratuita a internet, la struttura sarà aperta anche nel fine settimana, si potranno acquistare abbonamenti per lo sci. Poi ancora, Montagna, il festival si fa a Biondici, attenzione, il programma presentato, il 4 e 6 di ottobre, il sindaco respinge le polemiche sulle scelte. Poi, Rissa e Coltelli tra giovanissimi in centro, abbiamo visto già in precedenza questa notizia, ancora avanti nella provincia, Presutti, l'isola pedonale Resti, ad Avezzano, l'ex assessore si dichiara contrario ad ogni variazione. Andiamo a vedere adesso le pagine di Sport, ripartiamo dal calcio di Serie B, vigilia di campionato per il Pescara, Zauri senza pace, lungo stop per Balsano, domani sera Pescara in campo nell'anticipo. Sembra più grave del previsto l'infortunio del terzino biancazzurro, sospetta lesione del legamento e rischio intervento chirurgico, dunque brutta tegola dopo quelle di Tuminello e Palmiero. Andiamo adesso a vedere le altre notizie, i posticipi, il Trapani conquista il primo punto, i siciliani fermano la Cremonese, partita finita 0-0, pari anche tra Salernitana e Chievo, 1-1. Andiamo a vedere anche l'apertura di Sport sul messaggero, Pescara possesso ma rare occasioni, il titolo sulla partita contro il Cittadella, netto per redominio ma sterile, poco proficuo in zona gol, Zauri dopo l'infortunio di Tuminello e ancora alla ricerca del sostituto. E poi l'uomo chiave, Macin, ora sto trovando la giusta continuità, autore di una bella prova a Cittadella, anche del gol, poi Delfino, un passo avanti e uno indietro, tra i difetti, la persistente fragilità difensiva, progressi invece sul piano della manovra. Restiamo al messaggero, andiamo a vedere invece la Serie C, ieri si è giocato al Bonolis, Teramo un pari che delude, i biancorossi sprecano un rigore all'inizio del primo tempo, con Magnaghi, poi e Cianci a portare in vantaggio la squadra. Al ventottesimo della ripresa, un penalty ristabilisce il pareggio, Pacilli non sbaglia, nel finale proteste per un fallo su Ilari. I commenti con Tedino che dice, più di così non potevamo fare il mister, sono molto orgoglioso di allenare questo gruppo. Andiamo a vedere anche il titolo sul Teramo, sul centro, la sesta giornata con il Teramo che pareggia, con un altro pareggio beffa, dominata la Viterbese, che si difende a oltranze, rimonta facendo un solo tiro in porta, del penalty inesistente dell'1-1. Prima di andare a vedere il servizio, con il commento sulla partita, andiamo nelle pagine di sport della città, per vedere anche il titolo della città, Teramo che rabbia, altro pareggio beffa. I biancorossi dominano la Viterbese, vanno in vantaggio con Cianci, ma subiscono la rimonta da Pacilli, secondo pareggio consecutivo per il Teramo. andiamo a vedere insieme il commento della partita. Teramo che si è presentato all'appuntamento, con Bombaggi, trequartista alle spalle delle punte, Cianci, di rientro dopo la doppia giornata di squalifica, e Magnaghi, e poi con Santoro e Lasi, contemporaneamente in campo, Mungo in panchina, 3-5-2 per la Viterbese, gara che il Teramo domina da subito. Ci siamo a quello che può essere il primo momento svolta della gara, filtrante di Bombaggi, Cianci va giù nel contatto con Atanasov, il rigore effettivamente sembra generoso, lo concede il direttore di gara, Garofalo di Torre del Greco, accentua la caduta Cianci, calcio di rigore sul dischetto, dopo l'errore di Bombaggi a Catanzaro, va Magnaghi, il suo tiro, ma intuisce la conclusione Vitali, che si distende sulla sua destra, e respinge. Viterbese che si fa vedere, con questo tiro smorzato di Enrico, poi Tomei esce sui piedi di Volpe, Volpe che non lascerà grandi tracce in questa partita, sarà sostituito all'intervallo. Poi un errore questa volta di Besea, la girata con il sinistro di Bombaggi, attivissimo, già fulcro del gioco del Teramo, palla a lato, sponda di Magnaghi, destro di Lasic, colpisce male il giocatore ex Avellino. E poi siamo al colpo di destra centrale di Cianci, ma era in posizione di fuorigioco, questa è un'uscita sicura di Vitali, siamo poco oltre la mezz'ora nello svolgimento degli highlights, questo gol annullato a Cianci per fuorigioco, fuorigioco che c'era al momento del tiro di Santoro, deviato da un giocatore della Viterbese. Magnaghi era in posizione regolare, Cianci era al di là, lui a giocare il pallone e a segnare, dunque è giusto l'annullamento del gol. Siamo nella ripresa, e siamo al momento del gol del vantaggio, cinquantanovesimo minuto, Arrigoni verticalizza per Magnaghi, che prolunga benissimo di giustezza per Cianci, che con un colpo da biliardo, con il piatto sinistro, piazza la palla nell'angolo, primo gol in campionato per Pietro Cianci, bravo Magnaghi, in scivolata a dosare questo pallone perfetto, bravissimo anche Cianci, anticipa tutti, e con estrema precisione, batte Vitali in uscita. Teramo sembra stata in discesa, c'è questa palla gol per Cristini, su assist di Bombaggi, invece no, perché Pacilli inventa dal nulla questo lancio in verticale per Ciulina, che nell'intervallo aveva sostituito Volpe, Ciulina va giù nel contatto con Tomei, era partito in posizione regolare, ma anche questo è un rigore a dir poco generoso, non sembra neanche esserci il contatto tra Ciulina e Tomei. Pacilli, l'autore del lancio per lo stesso attaccante della Viterbese, spiazza Tomei, l'ex Aquilano va a segno, e realizza il gol del pareggio. Il Teramo che accusa questo gol, va in forcing, ma è un forcing un po' confuso, il Teramo in meglio lo ha dato fino al gol dell'1-1, entra anche Ilari, e qui è protagonista di questo episodio, una spinta, e questo sembra più rigore dei due che sono stati concessi a Teramo e Viterbese. Insomma, la squadra di Tedino deve accontentarsi di questo pareggio, 1-1, e domenica trasferta a Monopoli. Nel post-gara Tedino Amaro siamo ancora più incavolati, il tecnico a fine partita, più di così non potevo chiedere ai miei ragazzi, le soddisfazioni arriveranno, diavolo che avrebbe meritato di far propria la partita, avete visto anche dal filmato e dagli highlights della gara. Concludiamo sul centro, anche qui troviamo le impressioni dopo gara, Tedino gara di qualità, il rigore di Pacigli non c'era, l'allenatore Biancorosso felice per la prestazione, sono soddisfatto, ma resta il rammarico per non aver preso i tre punti, Cianci il gol è dedicato a mia figlia. Poi l'eccellenza con la quarta giornata, Lanciano ci pensa Miciche, un lampo dell'attaccante stende Langizzi che permette ai rossoneri di restare in scia al Castelnuovo, partita finita 1-0, poi le altre gare, tra cui quella delle penne che in dieci si fa rimontare, dal Delfino Flaccoporto 2-2, e il colpo del Castelnuovo, Lepre, dal Via al Poker 0-4 col Capistrello. Avenzano ancora a K.O. Passa il Pineto per quanto riguarda la Coppa Italia di Serie D, un gol di Sarrizu, qualifica i Biancazzurri, ora c'è l'Ostiamare, partita finita 0-1. E noi adesso ci fermiamo con la nostra rassegna stampa, io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina, Mattino 6 torna domani alle ore 8, la nostra informazione oggi come sempre alle 14, alle 19 e alle 23. Buona giornata. Buona giornata. Grazie a tutti.